Per quanto strano fosse, sicuramente il regista Fabius Le Monde avrebbe approvato. Ora, vi lascio con questo pezzo, dedicato a chi come me ha bisogno di distendere i nervi. Alla stessa ora, ogni sera, gli stessi rumori fra mille forme del respiro. A volte vorrei un po' più di luce, ma al buio l'intimità è illimitata. C'è stato un tempo in cui eravamo due attori. Abbiamo partecipato a festival, vinto concorsi con film come quello che segue, Il Conquistatore. Pronto? Come stai? Non hai niente di meglio da domandare. Cos'hai intenzione di fare? Mi gira la testa. Di cos'hai paura? Del sollievo e del distacco. Stiamo scappando solo da noi stessi. La sera, al calar delle tenebre, la gente mostra davvero quello che è. Io no. Io so chi sono. Lo dimostro anche di giorno. Pregherei la regia di mandare un piccolo contributo. Grazie. Grazie. Pregherei la regia di mandare un piccolo contributo. Giravamo corti. Non avevamo voglia di fare molto altro. Il lavoro successivo è stato questo. La conquistatrice. Pronto? Allora? Come stai? Ancora queste domande inutili? Ma oggi non vai in palestra. Mi gira la testa. Ti senti superiore? A giorni alterni. Da quando sei andata via? Sono giorni che mi sono trasferita. Stiamo scappando solo da noi stessi. Mi piacciono questi uomini. Hanno il senso dell'ironia quando sono provvisti del dono dell'intelletto. Regia! Adesso la regia vi manderà un contributo. Poi quel tempo è finito. Capimmo che non era quella la nostra strada. Le nostre inclinazioni erano ben altre. A volte vorrei un po' più di spazio. Ma in fondo a stare fermi non si rischia di spattere. A volte vorrei un po' più di spazio. A volte vorrei un po' più di spazio. Non si sta poi così male in questa scatola. Alla prossima. Vi èла oppure un po' più di spazio. A volte vorrei un po' più di spazio. Era l'ultimo brano di questa strana notte, vi auguro un buon riposo e per quanto riguarda te Fabrice, sì, dico a te Le Monde, preparati a morire.